Appuntamento settimanale con le curiosità dell'ambiente insieme al biologo e ricercatore Samuele Venturini. Bentornato. Ciao a tutti, grazie. Oggi parliamo di un fenomeno che si è verificato questo agosto, soprattutto in Sicilia ma anche in Grecia. Lo scorso 24 agosto due trombe d'aria marine hanno sfiorato le isole eolie. Che cosa sono però le trombe marine e come si formano? Le trombe marine sono eventi, fenomeni atmosferici, vortici cioè d'aria che si formano sulla superficie acquatica, mare, oceani, laghi, lagune, grandi fiumi. Si formano perché c'è un'instabilità atmosferica, una perturbazione di aria fredda e umida incontra la temperatura elevata della superficie marina, almeno di 22-25 gradi centigradi. Si formano così moti convettivi e cambiamenti di pressione che generano le trombe marine. E' questo un fenomeno comune? Può creare dei danni? E' un fenomeno molto comune alle nostre latitudini, soprattutto nel mar Mediterraneo, ma anche nelle zone equatoriali e di calme equatoriali. Pensa che in Italia avviene soprattutto in Friuli, Emilia Romagna, Abruzzo, ma anche Liguria, Lazio, Sicilia. Può creare danni perché i venti possono raggiungere all'interno della colonna d'aria punte di 200 km all'ora. Ci sono dei periodi in cui sono più frequenti oppure si possono verificare tutto l'anno? Le trombe marine sono eventi che possono verificarsi praticamente tutto l'anno, anche se alle nostre latitudini ci sono dei picchi stagionali, tendenzialmente luglio e ottobre, con un picco all'interno di questa stagione ad agosto. L'abbiamo visto verificarsi più volte lo scorso mese, è un fenomeno in aumento oppure è sempre stato così? E poi ti chiedo anche quali sono i metodi eventuali di previsione e anche di riparo in caso di questo evento atmosferico. In quanto evento naturale estremo, nulla si può dire della frequenza di tali eventi, così come i nubifragi e altri simili. Però ecco, dagli studi fatti finora, noi sappiamo che all'incirca 400-500 trombe marine si abbattono all'anno nel Mediterraneo, in Italia all'incirca un centinaio. In realtà provengono anche da tempi passati, infatti abbiamo degli scritti dell'antica civiltà che ci dimostrano la presenza di questi eventi, ma ecco la percezione degli ultimi anni è aumentata, non l'evento in sé. Per quanto riguarda la previsione è impossibile, bisogna però osservare l'evolversi della perturbazione temporalesca. Occorre quindi non andare fuori in barca durante le trombe marine, soprattutto se sei in spiaggia o sulla costa, bisogna tornare verso l'entroterra. Grazie Samuele Venturini per essere stato con noi. Grazie a voi.